Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Il Policlinico di Tor Vergata è stato colpito da un lutto devastante con la scomparsa improvvisa di Asia Semeraro, una giovane studentessa di 22 anni. deceduta a seguito di un malore improvviso. La comunità accademica e i suoi cari sono stati sommessi dal dolore, manifestando il loro cordoglio attraverso numerosi messaggi. Asia, che non presentava gravi patologie, ha avuto un malore nei giorni scorsi e nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, i medici non sono riusciti a salvarla. La sua aspirazione era diventare infermiera e stava perseguendo questo obiettivo frequentando l'istituto e svolgendo tirocinio presso il Policlinico di Tor Vergata. La sua gentilezza e dolcezza l'avevano già fatta distinguere durante le sue prime esperienze pratiche. Il Policlinico, tramite i social, ha espresso profondo cordoglio per la sua inaspettata scomparsa, sottolineando come Asia avrebbe sicuramente eccelso nella professione infermieristica. La comunità infermieristica e il personale si uniscono nel dolore della famiglia, perdendo una persona che avrebbe portato luce e dedizione nel campo della salute. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti! E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato. Scrivilo nei commenti!